Beh, del profeta te lo posso dare perché tu metti le mani avanti ma capisci sempre quello che può succedere. Parliamo di Amaranto e delle difficoltà che avevi già paventato per l'Arezzo che si sono poi concretizzate in questa trasferta. Sì, no Leo, ci siamo lasciati l'ultima volta dicendo che l'Arezzo era atteso da due trasferte insidiose, San Giovanni, Due Derbi e Città di Castello. Io chiaramente lo sapevamo, abbiamo trovato un ambiente come giustamente a livello sportivo, dove un po' oltre su altri aspetti ma non li voglio analizzare abbastanza teso perché San Giovanni doveva cercare in tutti i modi di fare risultato e addirittura ha vinto perché era penultimo in classifica. L'Arezzo ha approcciato questa partita, Leo, male, secondo me anche da un punto di vista morale. Poi è vero che abbiamo perso una zero sul rigore abbastanza a dubbio ma che si poteva dare all'inizio di ripresa ma i numeri parlano chiaro. Negli ultimi quattro partite la squadra Amaranto ha incontrato il Fuligno che era penultimo, il Gavorrano che è secondo in classifica, il Cascina che è terz'ultimo, è che è quarto ultimo, il San Giovanni che era penultimo a finale d'incontro con noi e ora è terz'ultima. Ha totalizzato sei punti, due vittorie e due sconfitte, sette reti subite, sette reti segnate. È evidente che la squadra Amaranto, se vuole vincere il campionato, perché siamo troppo critici, non è che siamo troppo critici, siamo critici in virtù del risultato finale. L'Arezzo deve cercare di vincere a tutti i costi questo campionato, secondo il mio potesto parere, con questa impostazione, con questo approccio mentale e anche atletico, l'Arezzo non lo può fare. Domenica è una partita giocata male, l'Arezzo ha avuto un paio di occasioni nel primo tempo, ma è troppo molle, non parte con quella cattiveria, con quel cinismo da squadra che deve vincere, che vuole imporre il proprio gioco. Qualche scelta del mister la devo sempre anche un po' analizzare, non mi ha convinto, perché chiaramente Panatti in mezzo al campo non è male come giocatore di contenimento, ma a livello di costruzione del gioco a Liperta è tutto un altro giocatore, se vuole vincere ci vuole uno che faccia partire l'azione, secondo me. E poi sempre insistere con questi due punti, sempre i famosi Marc Antoni, Foggia e Sparacello di un metro e novanta e non fare giocare dall'inizio Muzzi, che ti può dare chiaramente quella velocità, quella diciamo anche vivacità e anche un gioco non prevedibile. Anche queste scelte secondo me sono abbastanza discutibili. Comunque l'Arezzo è come il cielo, è terzo, quindi sta sereno, però si dice con la S, è terzo, ma l'Arezzo quando c'è stronzo si dice stronzo, capito? Il cielo è terzo, l'Arezzo deve stare conseguentemente sereno, perché è terzo, il problema è l'aspetta, questo agli ignoranti non la capiscono. Io vorrei parlare di calcio, l'importante è non la posizione terza in classifica, ma l'importante è come giochiamo, perché l'Arezzo poteva anche aver perso Domenica San Giovanni. L'importante non è la posizione, è come si fa, perché chiaramente dopo la domenica successiva c'è un'altra partita, allora se l'approccio, ecco, la città di Castello Coltiferno, l'Ecchio è tutta squadra che ha pareggiato a Gavorrano, il Gavorrano secondo in classifica, il Gavorrano ha pareggiato al 95esimo con Dierna, quindi una squadra chiaramente in forma, l'approccio, sì, lo so, l'approccio Leo deve essere differente. Vediamo se Domenica riusciamo chiaramente almeno a non dare soddisfazione al tifo Savaranto, perché ripeto, domenica San Giovanni Leo c'erano 600 tifosi, ribadisco anche questo. Allora i tifosi saranno soddisfatti a Castello perché ci sono delle belle donne, io per esempio ne conobbi una da ragazzo che per dirmi che avrebbe preso la scossa Allora quando avrebbe, se avesse toccato i figli della corrente di Sè Sè, mi hanno detto che se tu come lì c'è un manca piccicchetta. Bene, e te che hai detto? Raffinatissimo, sono sparito. Ma ti aspetta domenica? Può darsi. Può darsi. Sono passati 30 anni. E poi Leo finiamo dopo Città di Castello. No, posto. E no, te volevo dire, abbiamo la partita con San Donato. Scusa, io vorrei sapere quanto, te lo lascio. Vabbè, vado via. Va bene, buongiorno a tutti.